Ti è mai capitato di cadere dalla carrozzina a causa di un ostacolo? In questo video ti aiuterò ad imparare una tecnica per evitare molte cadute. Mi è successo diverse volte di cadere fino a quando non ho imparato da sola a rimanere su due ruote. Vediamo insieme quali esercizi puoi fare per imparare questa tecnica. Ci sono tre esercizi che puoi fare. Vediamoli insieme. Come primo esercizio metti le mani su porri mano e prova a spingere sempre con più forza la carrozzina in modo tale che si alzino le ruotine davanti in questa maniera. Quando avrai spinto maggiormente la carrozzina inizierai a sentire il tuo punto di equilibrio, il tuo baricentro. Comincia a spingere in avanti e indietro in modo tale che ti abitui e il tuo corpo si abitua a percepire il baricentro in questa maniera. Avanti e indietro. Quando ti sarai allenato e avrai sempre di più la percezione del tuo punto di equilibrio, prova a rimanere fermo nel punto di baricentro. Questo perché ti consentirà di essere più sicuro nel momento in cui ti troverai a dover affrontare un ostacolo. In questo modo. Prova a rimanere fermo. È importante, soprattutto all'inizio, che tu abbia una persona dietro di te per evitare che ti ribalti. Con questa tecnica riuscirai a superare tanti ostacoli nella tua quotidianità ed eviterai tante cadute. Se questo video ti è piaciuto e ti è stato utile, lasciami un like o commenta qui sotto e raccontami la tua esperienza. Ciao!